Su uno scooter per trasportare due chili di cocaina arrestati tre salernitani, a finire in manette due salernitani di 33 e 36 anni ed un 47enne di Baronissi. Le pattuglie della sezione antidroga della squadra mobile li hanno sorpresi sul raccordo autostradale da Salerno ad Avellino Caserta. All'altezza di Baronissi, in direzione Salerno, un'auto di grossa cilindrata procedeva assieme ad uno scooter in direzione del centro. Gli agenti hanno riconosciuto alcuni uomini su due mezzi. Gli agenti li hanno pedinati. Dopo alcuni chilometri i due occupanti dell'auto si sono accorti di essere seguiti. Hanno cercato di fuggire facendo un testacoda che gli ha consentito di cambiare direzione di marcia, separandosi dallo scooter che ha cercato di scappare a forte velocità. I poliziotti del vicequestore Lorena Antonia Cicciotti, però dopo alcuni chilometri, sono riusciti a bloccarli. Sono stati sequestrati due panetti di sostanza stupefacente e di tre tratti in arresto ed associati alla casa circondaliare di Salerno Forne.